Shalom 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 Prima di iniziare questa lezione vorrei dare tutti i lodi, tutte le adorazioni e tutto dovuto al Padre, creatore di tutto, Yehawah, nel nome di suo figlio, Yehawah Shai, e nel nome dello Spirito Santo, Rukakwadash. E vorrei dare doppi onori agli anziani apostoli della Great Mewstone per avermi insegnato questa verità che conosco oggi. Inizio questa lezione leggendo dal libro di Daniele, anzi questa lezione sarà basata sulla visione che ha avuto il re Nabucodonosso. E questo sogno del re Nabucodonosso è molto importante capirlo perché ci fa capire che tempi stiamo vivendo ora, che tempo siamo. E' un sogno fondamentale da capire. E inizio leggendo dal libro di Daniele, scusatemi, capitolo 2. Che dice? Nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosso ebbe dei sogni che turbano così profondamente il suo spirito da imperdirli di dormire. Il re fece chiamare i maghi, gli incantatori, gli indonvini e i caldei perché gli spiegassero i suoi sogni. Essi vennero e si presentarono al re e gli disse loro, Ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato perché vorrei comprendere il suo significato. Allora i caldei risposero al re in aramaico, Oh re, possa tu vivere per sempre. Racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo un'interpretazione. Il re replicò e disse ai caldei, Questa è la mia decisione. Se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in tanti lettami. Se invece mi dite il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni, ricompense e grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione. Essi risposero una seconda volta e dissero, Esponga il re il sogno ai suoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. E il re replicò e disse, Io mi accorgo che voi volete guadagnare tempo perché avete sentito la decisione che ho preso. Se dunque non mi fate conoscere il sogno, la vostra sorte sarà una sola. Voi vi siete messi d'accordo per darmi delle risposte bugiarde e perverse. Aspettando che cambiano i tempi. Ditemi dunque il sogno e io saprò che siete in grado di darmi l'interpretazione. Allora ci fermiamo un attimo. Questo è il re Nabucodonosso, come avete letto. Ha avuto questo sogno che l'ha turbato, che l'ha messo in preoccupazione e si vedeva che è stato lo spirito del padre Yehawah che governava questo re in questo momento a far sì che non voleva raccontare questo sogno a nessuno. Voleva che i maghi, i caldei, loro riuscivano da soli a dire il sogno e l'interpretazione. Il padre Yehawah faceva questo per far vedere la sua grandezza. Così poteva portare avanti Daniele. Ok, andiamo avanti. I caldei risposero al re e dissero non c'è un uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Così non c'è mai stato re per grande e potente che fosse che abbia domandato una cosa simile a un mago o incantatore o caldeo. Quello che il re chiede è difficile e non c'è nessuno che possa dirlo al re se non i dei la cui dimora non è fra i mortali. Allora il re si adirò sin furio terribilmente e ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero giustiziati. Il decreto fu promulgato e i saggi stavano per essere uccisi e si cercavano Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro. Allora Daniele si rivolse con prudenza e contatto ad Ariok capo delle guardie del re e era uscito per uccidere i saggi di Babilonia prese le parole e disse ad Ariok ufficiale del re perché questo decreto così perentorio perentorio da parte del re Allora Ariok spiegò il motivo a Daniele Daniele si presentò al re e gli chiese di dargli tempo e gli avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno Allora Daniele andò a casa sua e informò Anania Misael e Asaria suoi compagni Mi fermo qui un attimo andate a leggere dal capitolo 1 Questi sono i compagni di Daniele che sono stati portati in schiavitù dalla Giuda sono stati portati in Babilonia ok perché in questo momento che stiamo parlando era il regno della Babilonia erano loro che comandavano il mondo era il re Nabucodonosso che guidava il mondo e allora è andato in Giudea preso in schiavitù i figli di Israele e ecco come è arrivato Daniele e questi i suoi compagni altri tre assieme con lui e continuo leggendo Allora Daniele andò a casa sua e informò Anania Misael e Asaria suoi compagni esotandoli a implorare la misericordia del Dio Yahweh del cielo a proposito di questo segreto affinché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte con tutti gli altri saggi di Babilonia Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione nottura ed egli benedisse il Dio Yahweh del cielo dicendo sia benedetto eternamente il nome di Yahweh perché a lui appartengono la saggezza e la forza egli alterna i tempi e le stagioni le pone i re e li inalzi dalla saggezza ai saggi e il sapere ai intelligenti dalla saggezza ai saggi e il sapere ai intelligenti e gli svella le cose profonde e nascoste conosce ciò che è nelle tenebre e la luce abita con lui O Yahweh dei miei padri io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato rivelandoci il segreto che il re vuole conoscere avete visto allora Daniele è tornato a casa ha pregato al padre Yahweh e gli ha dato attraverso una visione attraverso un sogno ok queste visioni vengono attraverso il sogno notturna e lui ha benedetto il nome del padre Yahweh per questa grande cosa che gli ha fatto e continuo leggendo Daniele si recò quindi da Ariok a cui il re aveva fidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia e gli disse non fa morire i saggi di Babilonia conducimi dal re e io gli darò l'interpretazione allora Ariok si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e gli disse ho trovato un uomo tra i giudei deportati che darà al re l'interpretazione il re disse a Daniele detto Baltasar allora quando sono entrati se leggete dal primo capitolo quando sono stati portati dal giudea al Babilonia sono stati dati nuovi nomi hanno visto che Daniele e altri questi tre che sono Micaiah Azaria e Shedrach ok ha visto che loro avevano abbastanza conoscenza il padre li aveva benedetto con la saggezza e conoscenza e sono stati messi a parte per essere istrutti così affinché possano lavorare davanti al re al grande re Nobucodonzo perciò i loro nomi sono stati cambiati il nome di Daniele è stato cambiato a Baltasar ok continuo leggendo il re disse a Daniele detto Baltasar sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione Daniele rispose al re il segreto che il re domanda nei saggi nell'intrantatore nei maghi nei astrologhi possono svelarlo ma c'è un dio Yahweh nel cielo che rivela i misteri ed egli ha fatto conoscere al re Nobucodonzo quello che deve avvenire negli ultimi giorni avete visto perché è molto importante questo sogno che ha avuto questo re perché sono le cose ad avvenire negli ultimi giorni e questo adesso andiamo avanti ecco dunque quali erano i sogni e le visioni della sua mente quando eri a letto i tuoi pensieri ora quando eri a letto si riferivano a quello che deve avvenire da ora in avanti colui che rivela i misteri ti ha fatto conoscere quello che avverà quanto a me questo segreto mi è stato rivelato non perché la mia saggezza sia superiore a quello di tutti gli altri viventi ma perché io possa dare l'interpretazione al re e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore tu o re guardavi guardavi ed ecco una grande statua questa statua immensa ed uno splendore straordinario si ergeva davanti a te il suo aspetto era terribile la testa di questa statua era d'oro puro il suo petto il suo petto e le sue braccia erano d'argento il suo ventre e le sue cosce di bronzo le sue gambe di ferro i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla mentre guardavi una pietra si staccò ma non spinta da una mano e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò e li frantumò allora si frantumò allora si frantumarono anche il ferro l'agilla il bronzo l'argento e l'oro e divennero come la pula sulle aie d'estate il ventre